Buongiorno a tutti e ben trovati a questa puntata di Made for Webinar, i webinar tematici organizzati da Made, Competence Center dell'Industria 4.0. Oggi parleremo di intelligenza artificiale e delle sue applicazioni al mondo dell'industria. L'intelligenza artificiale è un tema che negli ultimi mesi ha trovato molto spazio nella stampa, ma anche nella curiosità delle imprese. Le sue applicazioni sono evidentemente molteplici, ma quello che noi vogliamo fare è cercare di capire come l'intelligenza artificiale possa essere utile nelle nostre fabbriche, nelle nostre aziende manifatturiere, come possa aiutarci anche in qualche modo con la ripartenza. Ne parleremo con Carlo Mariani di Bosch, che è responsabile del team Application Engineer per il Nord Italia. Carlo, ben trovato con noi. Sono Marco, grazie mille dell'invito. Benvenuti a tutti. Grazie a te. E con Francesco Mapelli, che è responsabile della Practice di Advanced Analytics al Cefriel. Sia il Cefriel che Bosch sono due dei 44 partner di Made e insieme formano le competenze che appunto Made come centro di competenze mette a disposizione del sistema industriale italiano. Ma per cercare di capire che cosa fa Made, io vi chiederei adesso di lanciare un piccolo video e poi ci vediamo fra pochi minuti. Made Competence Center è l'interlocutore tecnico per le tue attività di innovazione, trasferimento tecnologico, ricerca applicata e implementazione delle tecnologie 4.0. Un partner affidabile per mantenere un elevato livello competitivo ristrutturando i modelli organizzativi, di business e la strategia della tua azienda con il supporto di una rete composta da 4 università, 39 imprese e un ente pubblico. Una fabbrica didattica di oltre 2000 metri quadri dove potrai toccare con mano la trasformazione digitale e conoscere i protagonisti dell'innovazione. Visita le isole tecnologiche progettate allo stato dell'arte, prova gli esempi pratici e sviluppa progetti di Cyber Security e Big Data, Virtual Design e sviluppo di prodotto, Monitoraggio energetico, controllo remoto e manutenzione 4.0 Digital Twin, Lean 4.0 e logistica Tracciamento di prodotto e manifattura additiva Robotica e dispositivi indossabili Scopri come trasformare la tua azienda e vivi l'innovazione da protagonista Vieni al MAID Competence Center Industria 4.0 Ecco come appena avete potuto modo di vedere queste sono le attività che fa MAID per ripartire quello che abbiamo fatto di aver messo a punto una serie di servizi che vanno dall'orientamento alla formazione e con un palinsesto anche molto denso di attività Le vediamo in questa slide che adesso la regia mi sta mandando In particolar modo orientare e formare riteniamo che sia fondamentale per aiutare le nostre imprese, in particolar modo le piccole e medie imprese Proprio per questa ragione abbiamo messo a punto due palinsesti Il primo cosiddetti Made for Webinar, quello di oggi è uno di questi in cui intendiamo affrontare temi con un contenuto tecnologico importante L'industria 4.0 è complessa, le sue tecnologie sono complesse devono essere spiegate, devono essere raccontate E poi però vogliamo anche dare una visione sul futuro del manifatturiero e quindi con protagonisti del mondo dell'imprenditoria del mondo accademico, del mondo sociale Vogliamo cercare di capire che cosa ci attende nei prossimi mesi e nei prossimi anni E questo palinsesto si chiama Made for Future Abbiamo poi messo a punto un servizio ad hoc Riteniamo che questo sia un momento molto critico per l'economia del paese per la ripartenza e quindi ecco che con il nostro supporto imprese post-covid mettiamo a disposizione le competenze dei nostri partner per aiutare le imprese a ripartire Come? Rispondendo sostanzialmente alle loro domande, alle loro richieste di aiuto a come riorganizzare la fabbrica, a come organizzare i turni di lavoro Esistono delle tecnologie che possono aiutare il distanziamento sociale Questi sono alcuni degli esempi di domande alle quali ci siamo trovati a rispondere nelle ultime settimane Ce ne sono tantissime altre e quindi l'invito che vi faccio è di rivolgervi a noi E infine abbiamo insieme ad alcuni dei nostri partner messo a disposizione piattaforme software gratuite Riteniamo che Made e i suoi partner abbiano un ruolo sociale e per questo abbiamo lanciato questo terzo servizio Quindi l'invito è poi di contattarci, di andare sul nostro sito Noi siamo a disposizione e questo evidentemente è il ruolo istituzionale al quale i Competence Center e in particolare Made sono chiamati Bene, ma adesso scendiamo nel vivo del tema di oggi e vorrei cominciare a farlo con Francesco Mapelli Adesso noi ci alterneremo con una serie di domande e interventi con Francesco e con Carlo Per quanto riguarda chi ci sta seguendo vi ricordo che è possibile se avete delle domande in particolar modo particolari rivolgerle attraverso la nostra chat Sarà il nostro compito poi veicolarle ai nostri due ospiti Francesco, proviamo a cercare di capire un po' questa intelligenza artificiale perché è un tema che, un nome che ricordo da anni se vogliamo non è un nome nuovo ma forse tendiamo sempre ad associarlo a qualcosa di futuristico di cibernetico, un po' da film, di fantascienza ma forse l'intelligenza artificiale è molto più concreta di quella che ci aspettiamo essere e forse è parte già della nostra vita, no? Cosa ne pensi? Grazie, grazie Marco e buongiorno a tutti Beh, hai sicuramente posto una domanda molto molto interessante L'intelligenza artificiale ne sentiamo parlare tutti i giorni Ma che cos'è l'intelligenza artificiale? Io ho scelto la definizione che mi ha dato uno dei massimi esperti e primi studiosi in Italia di questo insieme di tecnologie Di fatto l'intelligenza artificiale è quell'insieme di tecnologie, metodologie, strumenti che vogliono fornire a un elaboratore elettronico, a uno strumento di elaborazione, a una macchina delle prestazioni che in qualche modo possono essere percepite come di competenza esclusiva dell'intelligenza umana Pensiamo ad esempio alla capacità di prendere decisioni la capacità di percepire delle immagini, riconoscere degli oggetti la capacità di percezione spazio-temporale Ecco, tu parlavi di fantascienza, Marco L'intelligenza artificiale come la conosciamo oggi o quella che è reale oggi non è quella dei film con i robot che conquistano il mondo, che prendono decisioni e che magari si ribellano addirittura contro di noi È qualcosa di molto più, come dire, concreto e utile presente nella vita di tutti i giorni E peraltro non è nemmeno una definizione nuova non è un termine nuovo, un qualcosa di nuovo che è nato negli ultimi mesi o anni La prima definizione ufficiale risale addirittura al 1956 quindi al secolo scorso e parecchi decenni fa Ecco, cos'è cambiato però dal 1956 ad oggi? Sicuramente che oggi la viviamo, la viviamo nella vita di tutti i giorni dai robot ad esempio che ci puliscono caso, che ci tagliano il prato al riconoscimento facciale, a questi oggetti che oggi sono sempre più presenti nelle case che ci permettono di parlare per far accendere la luce piuttosto che per far partire la musica È così presente che probabilmente ce l'abbiamo in tutti i nostri telefoni cellulari e nemmeno ce ne accorgiamo Ne facciamo così affidamento che ad esempio il riconoscimento facciale ci permette dal telefono di autorizzare delle transazioni bancarie quindi facciamo talmente affidamento sull'intelligenza artificiale che è diventata parte della nostra quotidianità e probabilmente non ce ne rendiamo conto Ma cos'è cambiato dal 1956 ad oggi per rendere possibile tutto questo? Sono cambiate tante cose Innanzitutto la capacità, la presenza di componenti, di dispositivi, di processori che consentono di fare elaborazioni molto complesse in tempi anche molto ridotti Secondo, la capacità e la possibilità di raccogliere una quantità enorme di dati dati che provengono da dispositivi, da apparecchi, da oggetti, da persone da qualunque cosa noi raccogliamo una mole infinita di dati che permettono, raccolti opportunamente, di creare conoscenza creare conoscenza e creare algoritmi La potenza computazionale oggi disponibile non possiamo dire che sia infinita ma non siamo tanto lontani dall'infinito se pensiamo all'utilizzo che possiamo fare del cloud per costruire anche modelli e strumenti molto complessi Ovviamente tutto questo supportato da una continua ricerca di tecnologie e di strumenti ha portato a creare notevoli applicazioni Riprendiamo gli esempi che facciamo poco fa della vita un po' di tutti i giorni Quello che è in casa nostra è il robot che ci aspira a casa e che riconosce quanto è sporca la casa riconosce di essere già passato o non essere passato in un certo pezzo di pavimento Nell'ambito industriale lo vediamo con robot anche molto molto più complessi che effettuano operazioni molto molto complesse L'automazione industriale ancora una volta non è nuova ma se una volta doveva essere programmata per fare esattamente una certa operazione quindi prendere, che ne so, esattamente la vita in un certo posto per portarla in un altro e poi avvitarla oggi possiamo dotare lo strumento di capacità molto più evolute che consentono al robot ad esempio di riconoscere esattamente la vite anche se non è nel posto giusto quindi ha una cassettina con tante vite e prende quella giusta da avvitare Il riconoscimento facciale che noi abbiamo sui telefoni nell'ambito industriale possiamo estenderlo a tutti quei sistemi di visione che consentono di riconoscere oggetti di controllare la qualità in maniera molto più veloce e durante le fasi di lavorazione andando a velocizzare tutto quello che prima veniva deputato a delle persone e se poi pensiamo a strumenti come i vari strumenti di interazione vocale che abbiamo a casa di cui non faccio il nome ma che sicuramente conosciamo tutti quegli strumenti che consentono di aumentare la sicurezza delle operazioni sul campo pensiamo alla manutenzione in un cantiere piuttosto che in un'industria su un macchinario molto complesso dove è necessario tenere le mani libere per poter intervenire sullo strumento ma contemporaneamente poter interagire in maniera vocale con uno strumento che mi dia le istruzioni o che mi visualizzi delle informazioni su degli occhiali intelligenti e che quindi io possa operare in piena sicurezza su impianti anche molto complessi ecco spero di aver risposto alla tua domanda facendo vedere che non è fantascienza è qualcosa che abbiamo e che vediamo nella vita di tutti i giorni e sicuramente l'esempio l'ultimo in particolar modo ci aiuta a capire come in realtà l'intelligenza artificiale non sia un nemico dell'uomo non ruberà posti di lavoro ma credo che sia un alleato dell'uomo perché aiuta a creare ambienti che sono per l'uomo più sicuri c'è un passaggio della tua risposta che mi ha soleticato una curiosità cioè tu hai parlato del fatto che l'intelligenza artificiale non è nuova la conosciamo già però recentemente è tornata alla ribalta grazie al fatto che ci sono stati due fattori abilitanti cioè la capacità di calcolo dei microprocessori da un lato e la capacità di quindi avere dati a disposizione mi chiedevo se la connettività e quindi la capacità di trasmettere dati tra un oggetto e l'altro sia un elemento che aiuti lo sviluppo dell'intelligenza artificiale assolutamente assolutamente sì ed è fondamentale per un'ulteriore evoluzione oggi molto spesso si fanno grosse elaborazioni ad esempio in cloud e poi si trasferisce una piccola parte dell'intelligenza sullo strumento che si vuole rendere intelligente avendo delle connettività più diffuse più veloci come può essere ad esempio il 5G altro argomento di cui si parla molto in questo periodo può assolutamente migliorare ulteriormente queste performance certo, perfetto grazie mille e adesso passerei a Carlo che vi ricordo è responsabile del team application engineer per il nord Italia di Bosch Carlo ma se adesso proviamo a scendere dopo l'introduzione che Francesco ci ha fatto un pochino più vicino al mondo della fabbrica quali sono le applicazioni più importanti perché l'intelligenza artificiale vista come una tecnologia che nel mondo della fabbrica sarà sicuramente molto importante e ci aiuterà probabilmente ad aumentare la nostra produttività ma forse anche ad ottenere altri vantaggi altri benefici grazie Marco grazie Francesco per la panoramica iniziale direi che il motivo principale per cui l'intelligenza artificiale stia diventando fondamentale per le aziende è il fatto che la sua flessibilità permette di soddisfare innumerevoli requisiti numerosi requisiti fermiamoci un attimo su quali sono gli scopi tipici dell'implementazione di algoritmi di intelligenza artificiale o di machine learning dopo approfondiremo le differenze tendenzialmente il primo tema è sempre la riduzione dei costi una corsa a migliorare l'efficacia e l'efficienza all'interno dei nostri plant produttivi tendenzialmente si cerca di migliorare due cose il prodotto o il processo parlando di miglioramento di prodotto tendenzialmente vengono inseriti componenti intelligenti anche se la definizione di intelligenza come vediamo non è ancora chiarissima si cerca di migliorare il prodotto cercando ad esempio di aumentare la sua vita utile questo può essere fatto grazie ad algoritmi che vanno a predire eventuali criticità per il nostro componente e cercano di evitarle di porle in un ambiente protetto di mandarle in protezione e l'altro tema è cercare di aumentarne le funzionalità Francesco ci ha fatto un esempio di sistemi che cercano di aggiungere funzionalità alla nostra vita quotidiana come ad esempio gli assistenti vocali gli assistenti vocali ad esempio nei nostri smartphone presenti pressoché in qualunque smartphone aggiungono funzionalità al nostro smartphone ma anche l'aumento della vita utile è importante sia in ambito aziendale con concetti di manutenzione predittiva ma cambiando un attimo punto di vista possiamo immaginare come anche i sistemi di assistenza alla guida ad esempio aumentino la vita utile del prodotto oltre che salvaguardare la salute dell'utilizzatore aumentano anche la vita utile del prodotto stesso un secondo trend molto importante è il miglioramento invece del processo andando a riconoscere dove sono gli sprechi nel nostro processo produttivo cercando di ridurli cercando di trovare strategie che ci permettano di produrre per esempio just in time cercando strategie di riempimento dei magazzini di ottimizzazione del nostro flusso produttivo che vadano quindi ad aumentare l'efficienza di tutto il nostro processo prendiamo ad esempio alcuni casi pratici alcuni esempi che sono presenti già oggi nelle nostre aziende l'intelligenza artificiale si può utilizzare per modellizzare sistemi complessi ci sono sistemi in cui la modellizzazione è un problema è un tema usando ad esempio dei sistemi ai quali viene data intelligenza quindi per esempio dei sistemi multiagente è possibile andare a identificare effettivamente il comportamento di un sistema complesso tramite delle simulazioni un altro esempio pratico è la scoperta di conoscenza occulta all'interno delle nostre aziende in tantissime aziende capita ci sono processi magari estremamente efficienti ma del quale non si è capito bene il perché non si riesce a identificare bene non si riesce a ingegnerizzare quel processo e capire dove sta l'efficienza estrema l'intelligenza artificiale ci aiuta quindi a portare a galla le cause degli degli output del nostro processo e a cercare di identificarle chiaramente e poter quindi ingegnerizzare e trasferire questo tipo di processo un altro tema invece di quale si parla comunemente è la manutenzione predittiva andando ad analizzare grandi quantità di dati i dati sono fondamentali sia nell'intelligenza artificiale che nel machine learning dopo lo spiegheremo bene ci permette di andare a identificare e stimare lo stato di salute dei nostri componenti e poter quindi pianificare in modo efficace la manutenzione e come dicevamo prima allargare aumentare la vita utile dei nostri componenti questi sono solo alcuni degli esempi pratici dopo ne affronteremo altri grazie questo sicuramente ci aiuta molto a capire le applicazioni le sue potenzialità perché poi alla fine i problemi che tu hai citato sono sempre problemi in qualche modo sui quali stiamo lavorando da decenni all'aumento della produttività al cercare di capire e analizzare i comportamenti dei sistemi produttivi perché è lì che poi le imprese si giocano parte della loro competitività però adesso la curiosità mi veniva perché tu a un certo punto hai parlato di intelligenza artificiale di machine learning ma sono la stessa cosa sono due cose diverse ci vuoi aiutare a fare un po' di chiarezza per cortesia chiarezza è la parola fondamentale c'è molta confusione sul tema e questi due termini questi due concetti vengono spesso usati e considerati intercambiabili non lo sono Francesco ci ha giustamente spiegato che l'intelligenza artificiale è una scienza è una disciplina è quindi un concetto più teorico che studia come costruire macchine e programmi che si possano comportare in modo intelligente cosa viene reputato intelligente abbiamo detto ad esempio portare a termine dei compiti tipicamente umani come ad esempio la risoluzione dei problemi il problem solving è un compito che viene di solito considerato umano ma anche l'imitazione dei comportamenti umani i comportamenti umani come ad esempio la percezione il riconoscimento vocale il riconoscimento delle immagini l'identificazione di ciò che viene rappresentato nelle immagini decision making è un altro tema che normalmente viene considerato un'attività tipicamente umana ma anche la traduzione per esempio le traduzioni non letterali ma che deducono il contesto da quanto viene tradotto sono quindi in grado di tradurre in modo molto molto più efficace quali sono esempi di intelligenza artificiale già presenti nel mondo e nella nostra vita di tutti i giorni per esempio i sistemi esperti dei sistemi che tramite delle continue condizioni logiche sono in grado di prendere delle decisioni o di effettuare delle scelte quindi un elenco semplicemente di condizioni logiche è già idealmente un'intelligenza artificiale anche se è molto embrionale però il concetto c'è e il machine learning invece è un esempio un altro esempio di applicazione dei concetti di intelligenza artificiale è una disciplina che si occupa di fornire ai sistemi tipicamente degli algoritmi la capacità di apprendere dalla propria esperienza cosa vuol dire? vuol dire prima di tutto che sono in grado di modificare se stessi questa è la prima keyword che dobbiamo ricordarci il punto fondamentale è sono in grado di intervenire su se stessi senza una programmazione pregressa e il secondo punto fondamentale è che sono in grado di migliorare le loro performance col tempo quindi il loro output diventa sempre più preciso sempre più efficace via via che l'addestramento continuo l'addestramento è una parola importantissima nei concetti di machine learning tant'è che il processo tipicamente nel machine learning ma non nel deep learning si divide in due fasi una a carico del programmatore e una a carico dell'algoritmo la prima fase tipicamente a carico del programmatore è l'estrazione delle caratteristiche come vediamo ad esempio l'etichettare i dati quindi andare a definire cos'è un certo dato per poi darlo in pasto all'algoritmo è una fase che tipicamente viene fatta da un programmatore il secondo tema invece che è la classificazione la seconda fase del processo viene portata a termine dall'algoritmo che tipi di apprendimenti esistono parlando di machine learning convenzionalmente si identificano tre modi di addestrare un algoritmo di machine learning nel primo caso si parla di apprendimento supervisionato è il caso che vi facevo prima in cui un programmatore o comunque un'intelligenza umana si occupa di etichettare i dati quindi di comunicare all'algoritmo qual è l'output che si aspetta da lui dopo il che l'algoritmo viene addestrato con grandi quantità di dati e a fine addestramento come ci diceva Francesco l'addestramento è un qualcosa di estremamente pesante dal punto di vista computazionale e quindi ad esempio può essere svolto da un sistema in cloud una volta che l'algoritmo è stato addestrato può poi essere scaricato e utilizzato su sistemi anche molto meno performanti perché la parte più complessa la parte più pesante computazionalmente è proprio l'addestramento un secondo tipo di addestramento è invece l'addestramento non supervisionato in questo caso non c'è un'intelligenza umana che si occupa di etichettare i dati ma si usano quantità di dati molto più grandi rispetto al primo caso e si lascia che sia l'algoritmo stesso a estrarre le caratteristiche da identificare ad esempio si danno grandi quantità di immagini in pasta a un algoritmo e l'algoritmo si occupa di estrarre i contorni isolare i colori e così via andando sempre più nel dettaglio e andando a estrarsi le caratteristiche e a crearsi dei cluster quindi dei gruppi tra tutti i dati che gli sono stati dati in pasto la terza modalità di addestramento è invece l'apprendimento rinforzato l'addestramento rinforzato in questo caso questa specifica strategia si utilizza quando è molto complicato reperire grandi quantità di dati e quindi l'unico modo per capire come interagire con l'ambiente è iniziare a interagire con l'ambiente quindi si inizia con un processo di prova in caso errore o meno quindi si prova un'interazione con l'ambiente e poi se l'interazione ha dato l'output che ci si aspetta l'algoritmo viene ricompensato in caso contrario gli vengono tolte delle ricompense di conseguenza l'algoritmo si deve semplicemente occupare di massimizzare le sue ricompense massimizzando le ricompense riesce a capire come effettivamente interagire con l'ambiente se ci pensiamo è un po' la strategia che si usa anche nell'addestramento degli animali passiamo brevemente al concetto di deep learning perché è un altro termine che a volte si va a confondere con il machine learning il deep learning è una branca è semplicemente un subset un sotto insieme del machine learning e si utilizza grandi quantità di dati molti più dati che nel caso dell'apprendimento supervisionato dati non classificati per l'addestramento degli algoritmi normalmente si parla gli algoritmi più utilizzati sono le reti neurali e in questo caso quindi le reti neurali si occupano sia di creare degli insiemi dei cluster dei dati che gli vengono dati come input e sia di calcolare l'output dopo dei primi cicli iterativi di apprendimento e di addestramento di queste reti neurali si ottiene poi l'algoritmo finale la reti neurali finale che si può utilizzare per effettivamente essere scaricata nell'applicazione reale essere utilizzata in questo caso due degli algoritmi più usati delle reti neurali più utilizzate sono le reti neurali ricorrenti che ragionano con dei nodi che si chiamano nodi di contesto il loro principale utilizzo è portare a termine compiti in cui l'output dipende sia dal dato che gli viene dato in ingresso che dai dati che sono arrivati prima è l'esempio delle serie temporali un segnale che ci arriva dal campo va capito va analizzato considerando anche tutti i suoi valori precedenti per esempio nel caso della manutenzione predittiva io devo sapere qual è lo stato attuale del componente ma anche qual è lo stato passato un altro esempio tipico è la predizione di quando digitiamo ad esempio con il nostro smartphone per capire quale parola suggerirci è importante che l'algoritmo sappia anche tutte le parole che abbiamo digitato prima un altro esempio sono le reti neurali convoluzionali in questo caso si parla di algoritmi di reti neurali che con strati successivi sempre più profondi da qui il concetto di deep learning vanno a estrarre caratteristiche sempre più dettagliate per poi predire l'output è l'esempio dell'analisi del testo per esempio il classico OCR si va a prendere un'immagine si vanno a identificare i contorni si vanno a confrontare i contorni con dei font con l'alfabeto o anche nel caso dell'analisi dell'immagine generico si estraggono i contorni i colori e poi si va a identificare effettivamente cosa c'è nella nostra immagine spero di essere stato abbastanza chiaro l'argomento è molto complicato ho cercato di compattarlo in poco tempo assolutamente sì ti ringrazio per questa chiarezza perché sono certo che ci ha aiutato a mettere un po' di paletti in questi termini che sempre più spesso sentiamo utilizzare ma che poi credo anche erroneamente vengono usati come sinonimi quindi alla fine poi creano confusione e quindi adesso chiarissimo lì delle differenze tra intelligenza artificiale machine learning e deep learning volevo andare adesso a Francesco perché adesso che abbiamo avuto questa introduzione così teorica di questi tre approcci se questi adesso li portiamo in fabbrica com'è che possiamo implementarli al di là degli esempi che abbiamo visto prima ci saranno delle competenze che sono necessarie ci saranno delle metodologie che ci sono necessarie questo è Allora, grazie. Grazie. Penso che ci sia stato qualche problema tecnico, prendo la parola io. Mi chiedevate quali sono i pilastri, quali sono i mattoni che compongono l'intelligenza artificiale, come si costruisce un algoritmo di intelligenza artificiale. Diciamo che ci sono diversi passi, che un algoritmo, che come ben ci ha raccontato Carlo, può essere anche molto complesso, ci sono diversi passi che mettono in piedi, se volete, una macchina che si appoggia sull'intelligenza artificiale. Un'intelligenza artificiale che poi è composta di tantissimi, è possibile comporla con tantissimi elementi. Diciamo che il primo passo è che la macchina, parliamo in questi termini, la macchina possa comprendere. E che quindi, facendo leva sulla grammole di dati che sono stati raccolti, come ci siamo detti più volte, sia in grado di estrarre delle informazioni. Sappiamo benissimo che avere dei dati è solo il primo passo. Avere dei dati non vuol dire avere delle informazioni. Per tirare fuori delle informazioni devo fare qualche passo, devo comprendere cosa i dati mi stanno dicendo. Siano i dati di tipo strutturato, sia che siano non strutturati. Cosa vuol dire? Beh, diciamo che possiamo semplificare questa classificazione in maniera abbastanza semplice. Da un lato i dati strutturati sono tutti quei dati che possono essere messi all'interno di una tabella. Quindi dove voi vedete una tabella, avete strutturato qualcosa dentro questa tabella, i dati sono strutturati. Il secondo passo è usare le informazioni che ho estratto. Scusate, i dati non strutturati invece sono ad esempio le immagini, i video, l'audio, eccetera, eccetera. Tutto ciò che non è stato in qualche modo formalizzato dentro una struttura predefinita. Il secondo passo è quello di portare la macchina a ragionare. Quindi una volta che ho estratto le informazioni, spiegare alla macchina, attraverso dei modelli matematici ad esempio, come usare queste informazioni per ragionare. Prendiamo l'esempio che facevo prima di una vite. Faccio una foto e comprendo che all'interno di quella foto ho delle viti. A quel punto spiego alla macchina che deve prenderne una e portarla da un'altra parte per avvitarla. A questo punto ho fatto il terzo passo. Gli ho detto come deve agire. Ha compreso che c'è una vite, ha ragionato che con la vite deve fare una certa azione e a quel punto ha agito. Ma non ci possiamo fermare qua. E ce l'ha spiegato molto bene Carlo poco fa. Una delle grosse capacità, delle grosse componenti dell'intelligenza artificiale è quella di imparare. Quindi andiamo un po' nell'ambito del machine learning. Cosa vuol dire imparare per una macchina? Vuol dire adattarsi e apprendere da situazioni che magari precedentemente non erano nemmeno state definite o modellizzate. E quindi magari attraverso, come si suol dire, trial and error, piuttosto che attraverso modelli diversi, imparare e adattarsi a situazioni differenti rispetto a quelle programmate. E da ultimo ovviamente tutti questi strumenti devono essere in grado di interagire con l'operatore, con l'uomo, con la persona. E ovviamente deve essere vero anche il viceversa. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi strumenti devono essere fatti in maniera tale da rendere il più semplice possibile per l'uomo interagire con la macchina. Prendiamo ancora una volta l'esempio degli assistenti vocali. L'assistente vocale ovviamente si relaziona con l'uomo perché usa la voce per dare informazioni. Ma è fatto in modo tale che per l'uomo sia naturale interagire con la macchina e quindi con l'assistente vocale perché lo fa nella maniera più naturale possibile parlando. E parlando come io sto parlando in questo momento, quindi con un linguaggio come si suol dire naturale. Parlo come mi viene, non devo usare delle forme predefinite per farmi comprendere dalla macchina. È la macchina che interpreta tutto quello che dico e fa un'azione sulla base di quello che dico. Quali sono poi i mattoni, gli strumenti che permettono di costruire soluzioni di intelligenza artificiale? Bene, vedete un po' sulla destra, nella figura di destra. Carlo ci ha già raccontato di machine learning, deep learning. Ha parlato di queste reti neurali che in qualche modo stanno un po' anche alla base del deep learning. Abbiamo altri strumenti, abbiamo i chatbot, i chatbot sono appunto gli assistenti vocali piuttosto che quelle chat che troviamo su tanti siti e che ci rispondono a delle domande magari anche abbastanza complesse, ma senza avere dietro un operator umano. Abbiamo tutti gli strumenti di computer vision che sono quelli che appunto riconoscono immagini, riconoscono testi, riconoscono oggetti. Abbiamo gli strumenti che si chiamano di speech recognition, che quindi riconoscono il parlato e via dicendo. Ci sono tantissimi strumenti che le tecnologie ci mettono a disposizione, che messi insieme vanno a costituire quella che è la soluzione di intelligenza artificiale che vogliamo costruire. Ma quali sono, come ci fa a realizzare uno strumento di intelligenza artificiale? Quali sono gli strumenti e le tecnologie che dobbiamo mettere in piedi? Quali sono i livelli di una soluzione di intelligenza artificiale? Beh, innanzitutto, come ci siamo detti, si parte da... I sorgenti dati che sono fabbrica, l'industria, l'impresa, sono molto diversi e anche molto distribuiti. Come dicevamo prima, c'è la difficoltà in alcuni casi di spostare le informazioni da una parte all'altra. Pensiamo a quali sono le sorgenti dati che noi abbiamo oggi. Abbiamo gli impianti, abbiamo i PLC, i robot, le macchine che ci passano i dati, gli strumenti di controllo. Abbiamo poi, mettiamola così, il reparto di progettazione, dove ci sono tutti i modelli dei vari prodotti, piuttosto che delle macchine, dove avvengono tutte le simulazioni. E poi abbiamo i vari strumenti aziendali, che sono ad esempio quelli per la gestione del prodotto, il classico ERP, gli strumenti gestionali e via dicendo. Tutti questi dati devono passare attraverso una fase che si chiama di data collection and preparation, cioè la parte di raccolta di tutti i dati, mettiamola così, centralizzazione di tutti questi dati e preparazione. Perché la preparazione dei dati è fondamentale per renderli comprensibili. Una volta che sono comprensibili, si vanno a costruire, c'è tutto il layer di modellizzazione, dove sulla base dei dati che io ho strutturato, vado a esplorare questi dati per capire se ci sono informazioni nascoste, come ci raccontava molto bene Carlo, andiamo a costruire e a ingegnerizzare dei modelli di analisi anche molto complessi e andiamo a fare, come si suol dire, il deploy di questi modelli e tutta la loro gestione. L'ultimo livello è quello che rende evidente l'intelligenza artificiale, diciamo così, verso l'esterno. E quindi è l'applicazione di intelligenza artificiale che si appoggia su tutto quello che sta sotto. Che può essere appunto la manutenzione predittiva, il controllo di qualità, le control tower, i sistemi previsionali della produzione, delle vendite e via dicendo. Quindi tutte quelle applicazioni che poi forniscono all'uomo, alle persone, agli operatori, gli strumenti per poter operare o che rendono intelligente una macchina per fare certi tipi di operazioni. Ovviamente sotto devo avere un insieme ben costruito di livelli e strumenti che mi abilitino a realizzare la mia soluzione. Un punto è importante da tenere conto quando pensiamo di realizzare o di mettere in casa, in fabbrica, uno strumento di intelligenza artificiale. È fondamentale partire dal problema, capire qual è il problema che voglio affrontare e considerare l'intelligenza artificiale uno strumento, non la soluzione al nostro problema, ma è lo strumento che insieme agli obiettivi di business, al nostro modo di lavorare, i processi, alle persone vanno a risolvere il problema specifico. È chiaro che il primo passo può essere quello di partire da problemi molto ripetitivi o dove è richiesto poca, tra virgolette, intelligenza e quindi dove è facile automatizzare. Ma è altresì chiaro che gli strumenti ci permettono via via di andare a svolgere anche i compiti più complessi. Ovviamente una volta capito qual è il problema, vado a raccogliere i dati che mi servono per rispondere a quel problema e faccio tutti quei passaggi che ci siamo detti poc'anzi e vado a scegliere qual è la giusta tecnologia, perché manutenzione predittiva è un'applicazione, le tecnologie e gli strumenti di manutenzione predittiva sono tantissimi. Qual è quella giusta per quello che devo fare, per i dati che io ho a disposizione e per il problema che io devo risolvere? Questo è ovviamente quello che serve o quello che bisogna capire per poter scegliere la soluzione e le applicazioni più adeguate ai miei problemi. Quindi mi sembra di capire che siano necessarie sia le competenze dello strumento ma anche le competenze poi del problema di contesto. Quindi questo è evidentemente fondamentale, non si tratta di una sfera o di una bacchetta magica che risolve i problemi in maniera totalmente autonoma. Francesco, ma rimaniamo un attimo con te. Quali sono al fine poi le soluzioni? Allora, diciamo che le soluzioni in ambito industriale sono tantissime. Io vi riporto qui quelle che da una statistica sono quelle più diffuse in ambito industriale. Diciamo che queste cinque applicazioni o macro applicazioni coprono circa l'80% oggi di quelle che sono le applicazioni in ambito industriale. L'ambito applicativo più diffuso è quello della manutenzione predittiva. La manutenzione predittiva cosa vuol dire? Vuol dire prevedere quando servirà a manutenere una certa macchina, quando servirà a intervenire. Cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire tante cose, ha un'importanza fondamentale per un'azienda. Vuol dire che io riduco gli incidenti. So in anticipo che una certa macchina, con una certa probabilità, potrebbe rompersi. A questo punto io posso programmare un fermo macchina. Quindi evito innanzitutto un incidente, che potrebbe essere molto molto grave, chiaramente, ma evito anche di interrompere senza preavviso la produzione perché posso programmare di fermare la macchina magari nel fine settimana quando la produzione ferma o di notte quando la produzione è ridotta e quindi posso fare a meno di una macchina e utilizzare le altre per non interrompere completamente la produzione. E posso assolutamente ridurre i costi di manutenzione e assistenza. Tenete presente che in questo modo si può arrivare a ridurre i costi di manutenzione anche del 50%, a ridurre anche dell'80-90% i fermi macchina non programmati e aumentare, come diceva anche Carlo durante il suo intervento, aumentare la vita utile di una macchina e quindi ridurre di fatto il costo complessivo della macchina e ammortizzare su un tempo più lungo il costo di una macchina. Ecco perché, forte anche di modelli analitici e modelli statistici molto consolidati, la manutenzione predittiva sta prendendo piede ed è molto diffusa in ambito industriale. Un secondo ambito applicativo molto diffuso è quello del controllo di qualità. Il controllo di qualità ovviamente vuol dire tantissime cose, vuol dire andare a identificare qual è la qualità di un certo prodotto, andare a identificare se ci sono delle difettorità, andare a distinguere, in molti settori ci sono i prodotti di prima, seconda e terza scelta e quindi andare a distinguere quelli che sono i prodotti che vanno nella prima, nella seconda o nella terza scelta. E questo grazie all'intelligenza artificiale, mentre prima il controllo di qualità veniva fatto tipicamente alla fine della fase di produzione o a intervalli ben definiti durante il processo di produzione, il controllo di qualità adesso viene messo, come si suol dire, in linea. Quindi durante le fasi di produzione c'è un controllo continuativo della qualità e questo mi permette di intervenire tempestivamente nel momento in cui vedo che si verifica un errore e quindi riparare un oggetto o sistemare o scartare un pezzo che può essere danneggiato, ma anche capire che, molto strettamente collegato al tema della manutenzione predittiva, capire che un deterioramento della qualità è legato ad esempio a un problema che io ho su una macchina, la punta che sta facendo dei fori che si è deteriorate e quindi i fori non vengono della giusta dimensione, facendo anche esempi molto banali ma molto concreti di controlli che oggi vengono fatti in fabbrica. Il terzo livello è quello di, il terzo ambito applicativo è quello di ottimizzare processi. E qua mi piaceva molto il tema che aveva ancora una volta citato Carlo, quello di scoprire informazioni nascoste. Ottimizzare i processi ovviamente il primo esempio che ci viene in mente è quello dell'automazione. Quindi prendo processi molto standard, molto tradizionali e li automatizzo in modo tale da velocizzare, semplificare le operazioni. Ma è anche vero che grazie all'analisi dei dati e andando a scoprire quali sono le componenti ad esempio che maggiormente incidono sugli ambiti produttivi, quali sono le fasi più critiche, le fasi che rallentano maggiormente gli ambiti produttivi o piuttosto quelle che determinano la qualità del prodotto finale, è possibile andare a ottimizzare i processi anche rivedendo il processo produttivo, andando ad ottimizzare la gestione delle risorse, andando ad ottimizzare dove vengono posizionati gli operatori e via dicendo. Altri due ambiti applicativi molto sfruttati oggi sono, e anche tra l'altro in qualche modo molto legati, sono quelli dell'ottimizzazione della supply chain, che vuol dire sia gestire gli approvvigionamenti dai propri fornitori, ma anche poi gestire la distribuzione verso valle o verso i propri clienti o verso tutto ciò che ha a che fare con la logistica dei propri prodotti. Ottimizzare la supply chain può voler dire tante cose, può voler dire prevedere la domanda, prevedere la domanda dei miei prodotti e quindi programmare opportunamente la produzione, ma non solo, programmare opportunamente gli approvvigionamenti dai miei fornitori e quindi ad esempio non solo di materie prime, ma anche di prodotti semilavorati e sapere che il mio fornitore sarà in grado di darmi esattamente quando mi serve quel pezzo che mi serve. Andare ovviamente a ridurre i costi logistici e andare a ottimizzare tutto ciò che è la gestione poi della produzione e del processo produttivo per avere il prodotto esattamente quando serve al mio cliente e ad esempio decidere di produrre in una certa fabbrica piuttosto che in un'altra perché è più vicina al mio cliente finale e quindi di fatto mi ridurrà il costo poi di trasporto piuttosto che il tempo di consegne e via dicendo. Molto legato a questo, ovviamente l'ottimizzazione del magazzino. L'ottimizzazione del magazzino, ancora una volta, riuscendo a prevedere quella che è la domanda da un lato di materia prima verso i miei fornitori, dall'altro di prodotto finito verso i miei clienti, posso fare in modo di avere un aumento della disponibilità di prodotti e di materia prima nel momento in cui mi serve. Tenete presente che con strumenti di questo tipo io posso passare tranquillamente da un 50-60% di disponibilità del prodotto quando mi serve anche a oltre il 90-95-98% di disponibilità dei prodotti. Pensate soprattutto ai temi di manutenzione quando oltre a fornire dei prodotti offro anche tutta la parte di assistenza. Avere il pezzo di ricambio nel magazzino giusto quando mi serve è fondamentale per garantire un servizio diciamo così in tempo reale al mio cliente e dare anche una percezione di efficienza molto alta verso il cliente creando quindi una fidelizzazione molto forte. È chiaro che ottimizzare il magazzino comporta anche delle altre ottimizzazioni. Posso utilizzare magazzini di dimensioni ridotte, posso ridurre anche del 10-20-30% lo spazio magazzino necessario se io sono in grado di fare delle buone previsioni di quella che sarà la necessità di quello che mi serve. E posso ridurre il tempo di rotazione del magazzino. Quindi facilitando la rotazione di prodotti, facilitando la disponibilità di prodotti e quindi sfruttando al meglio il magazzino senza mantenere in magazzino per troppo tempo prodotti che come sappiamo comporta dei costi anche molto elevati legati alla gestione del magazzino stesso. Ecco, questi sono un po' gli ambiti. Poi ovviamente ci sono ambiti anche più evoluti che possono andare fino all'ambito della sperimentazione e della ricerca molto forte ad esempio oggi nell'ambito farmaceutico, nell'ambito dei prodotti ad esempio per la cura della persona, per la cura degli animali, per la produzione di cibi. Si sfrutta moltissimo l'intelligenza artificiale. È chiaro che in questo momento sono ancora rispetto a questi ambiti che abbiamo visto delle nicchie. Grazie Francesco per questa dotta esposizione. Credo che adesso chi ci sta seguendo forse starà che prendo adesso in fabbrica per applicare quello che tu ci hai appena detto. Credo che non si possa più farne a meno. Io vorrei ricordare a chi ci segue la possibilità di mandare chat attraverso la chat appunto di mandarci delle domande alle quali noi saremo ben felici di poter rispondere. Nel frattempo Carlo credo che alla fine l'uso di questa tecnologia richieda più competenze le competenze di chi conosce gli strumenti e le competenze di chi conosce il contesto. Quindi forse potremmo dire che si tratta in qualche modo di un approccio interdisciplinare che richiede un team per poter essere adeguatamente implementato in azienda. È così? È così ma la risposta a questa domanda ha due differenti chiavi di lettura. Possiamo considerare il tema che stavi mettendo in luce che è il fatto di quanto più discipline e più competenze differenti sono necessari all'intelligenza artificiale per performare in modo efficace. In questo primo caso ovviamente più dati e più informazioni possono permettere un addestramento più efficace degli algoritmi di machine learning e di deep learning. È fondamentale considerare che in realtà le nostre competenze o le nostre conoscenze sono di base interdisciplinari cioè il nostro cervello il cervello umano che stiamo cercando di non dico replicare perché quello è un concetto un po' tirato però di imitare di imitarne il funzionamento dobbiamo considerare il fatto che noi facciamo connessioni a contesti differenti. Quindi quello che impariamo in un contesto siamo poi capaci nel caso umano in modo automatico di applicarlo a contesti differenti non è un'azione facile non è spesso un'azione cosciente ma è una cosa che viene abbastanza spontanea. In questo caso quindi più competenze differenti se scendiamo nel pratico nel mondo industriale vuol dire che ci deve essere l'esperto del processo che soprattutto mi è piaciuto molto quello che ha detto prima Francesco non partiamo dalla tecnologia dal dire voglio usare l'intelligenza artificiale partiamo dal problema cosa deve fare quale necessità mi deve soddisfare cosa deve risolvere in quel caso è il modo più efficace per portare a termine un progetto di intelligenza artificiale quindi un programmatore e un esperto del contesto. La seconda differente chiave di lettura è invece quello che l'intelligenza artificiale può fare per varie discipline perché un algoritmo che è stato addestrato per fare un certo lavoro in una disciplina specifica può a volte essere utile in un contesto completamente differente in quel caso però ci vuole l'abilità di chi questi algoritmi li utilizza e li comprende la sua abilità di astrazione nell'applicare poi queste cose a contesti differenti prendiamo anche qui dei casi molto pratici prendiamo una gestione del traffico ok un algoritmo che si occupa di ottimizzare la gestione del traffico di rete può essere un algoritmo utile per ottimizzare la gestione del traffico ad esempio nell'ingegneria urbana sono contesti completamente differenti ma a cui possiamo applicare algoritmi simili ci sono quindi due concetti che mi piacerebbe portare alla vostra attenzione quello di intelligenza artificiale debole e quello di intelligenza artificiale forte nella maggior parte dei casi e tutti gli algoritmi tutti gli esempi pratici che noi stiamo portando sono specifici ed è in questa direzione che dobbiamo guardare perché sono delle applicazioni ottime per svolgere dei compiti ben definiti infatti spesso si parla di narrow AI ok si intende un'intelligenza artificiale molto focalizzata nel risolvere un problema che abbiamo detto si può applicare a contesti differenti quella che invece è più comune nella letteratura nella filmografia come ci diceva giustamente Francesco in quel caso si parla di intelligenza artificiale forte un'intelligenza generale che mira all'emulazione completa dell'intelligenza umana ma nel mondo industriale in tutti gli esempi che abbiamo visto ci dobbiamo concentrare su un'intelligenza artificiale degli algoritmi di machine learning in grado di soddisfare di risolvere problemi specifici e che siano in grado grazie a delle connessioni a partire da addestramenti interdisciplinari di creare una conoscenza che si possa applicare a contesti differenti quindi in qualche modo quello che stai suggerendo è di semplificare prima il problema in problemi più semplici e poi di affrontarli uno alla volta con degli algoritmi di intelligenza artificiale specifici che è un approccio classico dell'ingegneria grazie ci sono molte domande che abbiamo ricevuto e questo mi fa molto piacere io adesso ve le pongo vi prego magari di essere veloci nella risposta così riusciamo a rispondere a tutte allora la prima è relativa alla che cosa e come scegliamo se applicare il machine learning o il deep learning a un contesto aziendale quindi che sia un settore manifatturiero piuttosto che il settore dell'automotive magari questa la farei a Carlo visto che ci ha raccontato lui le differenze tra machine learning e deep learning ok grazie della domanda il tema la prima scelta che farei è ragionare su quanti dati abbiamo a disposizione per cui se dovessi scegliere che algoritmo applicare o in quale direzione muovermi partirei a ragionare da quanti dati ho a disposizione perché abbiamo citato anche se brevemente il fatto che l'addestramento delle reti neurali nel deep learning richiede delle grandissime quantità di dati quindi questa è una prima scelta che farei in secondo caso ragionerei sulla precisione di cui ho bisogno perché un algoritmo ad esempio di deep learning per sua natura non è strettamente vero ma è così nella maggior parte dei casi occupa più tempo per diventare molto molto preciso vuol dire che per precisioni superiori al 95 98% ci vuole più tempo rispetto a degli algoritmi di machine learning e il terzo tema ragionerei se ho le competenze per capire l'output che desidero questo è il terzo caso in cui opererei la terza variabile su cui opererei la mia scelta perché ci ha sottolineato giustamente Francesco ce l'ha ricordato spesso io non so qual è l'output che mi aspetto a volte io ho delle rotture di un pezzo ma non so il perché in quel caso io devo analizzare grandi quantità di dati e cercare di capire dove c'è stato questo scostamento di qualità e in quale qual è la variabile che mi ha portato poi quel pezzo a essere meno resistente o ad avere una vita utile molto più breve degli altri quindi in questo caso anche la competenza a monte è importante nello scegliere la direzione in cui andare per completare ti dico che è sempre necessaria una fase consulenziale quindi in quel team multidisciplinare di cui abbiamo parlato prima ci vuole proprio questa competenza diversa tra chi conosce gli algoritmi e chi conosce il processo per identificare caso per caso qual è la direzione migliore in cui andare perfetto grazie Francesco una domanda apparentemente semplice ma non credo per fare un esempio di manutenzione predittiva per una macchina vecchia in cui non abbiamo neanche un PLC e che forse poi non abbiamo neanche i dati quindi forse la domanda non è così semplice esatto hai colto la risposta non è semplice diciamo che allora se non abbiamo neanche i dati mi viene da dire ci si basa sull'esperienza delle persone è l'unica strada che possiamo seguire e non è una battuta ovviamente perché poi anche tutti i modelli come spiegava Carlo l'esperienza delle persone è sempre la base anche poi per costruire un modello di machine learning e tutto il resto è chiaro che poi non avere il PLC non avere una macchina vecchia non vuole necessariamente dire non avere dati io so cosa sto facendo con quella macchina quanti pezzi produce chi ci lavora quanto ci lavora quante ore fa è chiaro che sono informazioni parziali magari non sono informazioni che arrivano in tempo reale ma sono una base su cui io posso cominciare a capire alcuni fenomeni e quindi costruirmi la come dire una base di conoscenza che che mi porti a cominciare a sviluppare i modelli di manutenzione predittiva è chiaro che io posso piano piano rendere intelligente anche una macchina vecchia non ve lo sto a spiegare ci sono modelli però che si chiamano di retrofitting dove vado a attaccare mettiamola così dei pezzi di hardware a delle macchine vecchie che mi consentono di cominciare a raccogliere dati quindi di rendere il processo sempre più efficiente e ovviamente performante perfetto ne abbiamo ancora due visto che appena è passata un'ora ma io direi di cogliere l'occasione di avere due esperti con noi la prima di queste è se si rischia di in questi cambiamenti in questi avanzamenti tecnologici di essere troppo disruptive e quindi magari di fare anche dei passi falsi è un rischio questo oppure chi vuole dei due prendersi l'onere della risposta posso provare a iniziare io così poi lascio a Carlo ti trarre le conclusioni che è sempre più difficile no il tema allora sì e anche no la risposta come dire la verità sta sempre nel mezzo come dicevamo prima come dicevo anche in una delle slide è importante partire dal problema ed è importante partire da un problema tra virgolette semplice e quindi costruirsi un percorso a gradini è chiaro che in un certo qual modo a un certo punto si arriva a un punto di chiamiamolo così di rottura tra il presente e il passato ma è altrettanto chiaro che io posso farlo per come dire per passi anche molto ben strutturati e molto brevi è chiaro che poi nel momento in cui scopro come dire i vantaggi di questi approcci posso anche accelerare il passo e quindi andare sempre più velocemente verso un modo completamente nuovo di lavorare Carlo visto che ci hai parlato di differenze tra i diversi approcci i diversi strumenti il process mining che cos'è e se rientra nell'ambito dell'ottimizzazione dei processi forse Carlo non mi ha sentito ok allora possiamo possiamo dire che sì è importante è importante nei termini in cui sono importanti i dati quindi in questo caso il process mining è solo uno dei mogli che abbiamo che abbiamo per analizzare ad esempio il log degli eventi analizzare tutto ciò che è successo nel nostro processo e capire capire effettivamente cercare di estrarre conoscenza da quel processo e cercare di identificare le sue variabili le sue direttrici principali per poter utilizzare questa conoscenza nell'ottimizzare nell'efficientare questo processo quindi sicuramente sì è utile il process mining ed è necessario perché è uno dei modi in cui dobbiamo raccogliere le informazioni su quello che vogliamo ottimizzare bene io spero che mi sentiate bene vorrei ringraziare di nuovo Carlo Mariani di Bosch e Francesco Mapelli di Cefel per questa piacevolissima sessione sull'intelligenza artificiale e invitarvi ai prossimi ai prossimi ai prossimi eventi vi ricordo che noi continueremo per tutto il mese di giugno e di luglio con le sessioni di formazione made made for webinar qui trovate i quattro punti che sono già in calendario quindi parleremo di cloud computing sempre per l'industria 4.0 di big data analytics parleremo di manutenzione preditta un tema che oggi abbiamo solamente accennato e poi parleremo di realtà aumentata di realtà virtuale per attività di collaborazione e di training da remoto che è un tema molto caldo alla luce del covid e del distanziamento sociale alle quali le imprese saranno soggette nelle prossime settimane e nei prossimi mesi e poi vi invito il 23 di giugno alle ore 18 all'appuntamento di made for future in cui insieme a Enrico Cereda general manager di BM Italia e a Fabio Giuliani general manager di Bosch Italia parleremo di quelli che riteniamo ritengono loro essere i scenari futuri del mondo dell'impresa e del 4.0 nei prossimi anni io vi ringrazio tantissimo per la partecipazione mi auguro che sia stato utile per voi e ovviamente vi invito a andare a visitare il sito di Made dove troverete tutte le informazioni relative alle attività e ai servizi di Made per il mondo delle imprese grazie e a presto grazie buona giornata grazie buona giornata grazie grazie grazie